L'apertura del tratto di collegamento in ingresso e in uscita alla Pedemontana su quello che sarà il sedime definitivo della stessa. Attualmente si entrava in Pedemontana percorrendo un tratto della nostra vecchia superstrada. Adesso l'ingresso è quello definitivo anche se di fatto si attraverserà il casello senza che siano in funzione le sbarre. Eppur si muove i lavori della superstrada Pedemontana Veneta in quel di Breganze vanno avanti. La costruzione del tratto breganzese della SPV ha creato molti disagi ai cittadini per la ridotta viabilità provvisoria, per gli scavi della nuova sede stradale in trincea, per la durata del cantiere. Già da più di due settimane, quasi tre, i cantieri in realtà nella nostra zona hanno riaperto dopo un periodo di stop dovuto ovviamente alla necessità di adeguarsi alla normativa di protezione e di prevenzione del contagio da coronavirus. Si procede ovviamente non a ritmo pieno perché anche le maestranze che possono spostarsi sul territorio sono quelle delle aziende locali, delle ditte locali, però i lavori stanno proseguendo nella nostra zona. Tutti vogliono vedere la fine dei lavori il prima possibile e vedere anche diminuito il traffico locale. si dovrà aspettare però il 2021. E si possa tornare a una normalità che sarà una nuova normalità, ma che insomma ci consentirà poi di valutare eventuali misure anche sul traffico locale.